Tra tutte le scuole bassanesi, la primaria campesano di Via Trozzetti deteneva il poco invidiabile primato dell'entrata più pericolosa. Il movimento dei tir, delle ditte, metteva in rischio l'uscita e l'entrata dei ragazzi dovuto al poco spazio che avevamo nell'ingresso della nostra scuola. L'istituto comprensivo e il consiglio di quartiere San Marco insistevano da tempo in memore per trovare una soluzione. Erano tanti anni che aspettavamo questo, era solo per un discorso di sicurezza dei bambini. Grazie anche alla ditta Pengo che ha messo a disposizione il terreno, ecco l'intervento risolutivo costato 560 mila euro al comune. Più posti auto, marciapiedi a nuovo in materiale drenante e soprattutto... Lo spostamento delle carreggiate stradali verso sud e la creazione di un'area di rispetto a nord dove i bambini possono accedere con i loro genitori in modo facile e sicuro sia in ingresso che in uscita dalla scuola. In ultima è stata anche cambiata nella zona di illuminazione pubblica con l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti a led che consentono oltretutto un risparmio energetico che di questi tempi non fa male. Grazie per la visione!